Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti al mio primo video di questo canale era una cosa che avevo in mente da tempo e tempo permettendo e pubblicherò altri nel caso scrivete i commenti oggi vediamo come configurare Windows Live Messenger che è ritornato su Windows 10 successivamente avevo in mente di fare altri video su Linux e anche su Windows 7 come primo passo vi consiglio di creare una mail apposita per questo servizio quindi non una mail che già è importante che utilizziamo per lavoro ma tanto ci vuole solo due minuti in più per fare una nuova però nel nostro browser cerchiamo Outlook una volta su Outlook cliccare su Crea Account Gratuito e seguire le istruzioni come vedete è ancora possibile creare hotmail.com e hot.it una volta creata la mail cerchiamo poi tramite browser sempre le Scargo Chat che è la pagina dove si può registrare il servizio cliccare poi qua Scargo Chat i link sono nei commenti poi successivi cliccare in alto a destra c'è login e sotto email c'è in blu don't have an Scargo Chat account clicchiamo su quello e facciamo la registrazione inserendo il nostro indirizzo mail la username la scelta può anche essere diversa dalle email e una password se usate la versione 8.5 di messenger lo step 2 optional lasciate tutto così senza selezionare niente successivamente finito create account vedete se è andato tutto a buon fine andiamo alla schermata downloads e nella schermata downloads in fondo dopo aver selezionato msn live messenger vedo che c'è anche io ho un messenger magari lo proveremo anche quello anche se credo che sia un po' meno utilizzato andando facendo a scorrere la pagina andiamo fino in fondo e cerchiamo la versione italiano ho scaricato la versione patched già e non mi ha dato particolari problemi della versione pro 8.5 la vlm 2009 nel mio windows 10 mi ha dato dei problemi quindi ho scaricato questa ed è funzionante scarichiamola nel punto in cui volete io per l'installazione ho utilizzato risoluzione problemi compatibilità programmi che è tramite il clic destro e poi si attende un attimo si testa il programma dopo di che si si attende l'installazione che va a buon fine io ho utilizzato la versione 1909 attualmente installata su windows 10 a questo punto vi consiglio se vi da ulteriori problemi nell'installazione di disattivare temporaneamente l'antivirus a questo punto il programma è installato e andando in alto a destra c'è la cartella opzioni vi consiglio di fare almeno un paio di cose tra cui il nome visualizzato dagli altri nella cartella generale si può togliere la spunta da eseguire automaticamente windows live messenger all'accesso a windows webcam generale in base a cosa vi interessa togliete anche la spunta da windows live today all'accesso di windows live messenger poi ci sono altre opzioni che anche qua in base a cui vi consiglio di dargli un'occhiata perché comunque sono importanti per l'utilizzo ad esempio suoni o nei messaggi comunque si è ho tolto anche riproduce automaticamente le onimoticon alla ricezione per ogni cosa ho fatto applica quindi per poi mettere in moto le nostre opzioni altro che c'è il consiglio di rimuovere anche cartelle condivise perché non so quanto sia poi sia sicuro lo sto testando questo server di escargo comunque vedo che dalle varie chat sembra abbastanza sicuro comunque poi c'è un'altra impostazione nella pagina protezione potete rimuovere apri windows live messenger quando seleziono un collegamento salvare e chiudere per quanto riguarda poi il trasferimento file schede io ho messo nascondi schede sempre con l'applica a questo punto il programma poi è comunque si è configurato se vi piacciono le schede funzionano tutte quindi le schede io le tolte in questo caso la versione 8.5 è quello che ho visto comunque sia più funzionante per per windows 10 poi proverò anche che comunque sia su una versione di linux e anche su windows 7 altro non mi sembra che ci sia poi nel caso scrivete nei commenti poi ci possiamo scambiare magari un'email lo vediamo bene vi ringrazio buon divertimento e buon 2021 a presto ciao 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 Grazie a tutti.